Ciao! Una pulsar è un oggetto celeste che, visto dalla Terra, emette un segnale intermittente, regolare, verso la Terra, con una precisione di 10 miliardesimi di miliardesimo di secondo. Ovvero un segnale che si ripete con una precisione più alta di un orologio atomico. Ma cosa sono le pulsar? Di cosa sono fatte? Oggi vi sezionerò una pulsar rappresentata da questa angoria. La aprirò e vedremo insieme come è fatto l'interno di una pulsar. Vi sorprenderà molto. Il mio nome è Simone Baroni, sono un fisico e insegno la scienza in modo accattivante. Iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime novità. I nostri telescopi hanno osservato pulsar di diverso tipo. Ne abbiamo osservate più di 1500 nel cielo. Alcune ruotano su se stesse una volta ogni 11 secondi. Altre ruotano una volta ogni 1,4 microsecondi. Questo vuol dire che compiono circa 700 giri al secondo. Immaginate che questa angoria sia appunto una pulsar, con un diametro tra 20 e 30 chilometri, e che ruoti su se stessa 500-700 volte al secondo. Da una rotazione all'altra il tempo per fare un giro su se stessa è quasi sempre lo stesso. Può cambiare al massimo di 10 miliardesimi di miliardesimo di secondo. E ora immaginate che questa pulsar emetta un fascio collimato di onde radio da entrambi i poli. Se il fascio punta verso la Terra, allora lo possiamo osservare ogni mezzo giro. Il fascio punta sulla Terra, il fascio punta sulla Terra e così via. Quindi dal nostro punto di vista questo segnale pulsa. Per questo si chiamano pulsar. Ma di cosa sono fatte le pulsar? Le pulsar in realtà sono stelle di neutroni. Questa è una stella di neutroni. Il motivo è che le stelle di neutroni sono gli oggetti più densi e compatti che esistono nel cosmo, oltre ai buchi neri. Questa stella di neutroni ha un diametro, abbiamo detto, di 20 chilometri. E una massa fino a due volte quella del nostro Sole. Immaginate di comprimere il nostro Sole in soli 20 chilometri. La densità media di questa stella di neutroni è di 100 miliardi di chilogrammi per ogni centimetro cubo. È la stessa densità che troviamo all'interno di un nucleo atomico. Anzi, siccome questa è la densità media, al centro della stella di neutroni la densità può arrivare anche a 10 volte quella di un nucleo atomico, dando luogo a materiale che non troviamo qui sulla Terra. Lo vediamo tra poco. Ma perché le pulsar devono essere per forza stelle di neutroni? Pensate a cosa succede quando salite su una giostra che gira vorticosamente su se stesso. Veniamo schiacciati verso l'esterno, addirittura gli occhi se ne vanno verso l'esterno mentre giriamo sulla giostra. Allo stesso modo, gli strati esterni di una pulsar, che può rotare fino a 700 volte al secondo, verrebbero scaraventati via nel cosmo dalla forte rotazione. A meno che la pulsar sia così densa che la sua gravità la tenga unita e impedisca al materiale di volarsene via. Solo una stella di neutroni ha una densità abbastanza alta da poter ruotare 700 volte al secondo su se stessa senza disintegrarsi. Quindi le pulsar sono stelle di neutroni. Apriamo la nostra stella di neutroni e vediamo com'è fatta all'interno. All'esterno vi è uno strato sottilissimo, chiamato atmosfera. Nella nostra anguria è rappresentata da questo strato verde finissimo. La stella di neutroni ha un diametro di 20-30 km in totale, abbiamo detto. Mentre l'atmosfera ha uno spessore di pochi millimetri ed è composta da materiale gassoso o liquido. E qui arriva la prima sorpresa. Subito dopo l'atmosfera si trova la crosta esterna, con uno spessore di circa mezzo chilometro. Nella nostra anguria è rappresentata da questo strato bianco. La crosta esterna è composta da materiale solido, ovvero se dovessimo atterrare su una stella di neutroni appoggeremmo i piedi su una superficie dura e solida, ricoperta da un sottile strato umido l'atmosfera. Certo, se ci avvicinassimo a una stella di neutroni verremmo disintegrate ancora prima di raggiungerla, perché la gravità di una stella di neutroni è così forte che strapperebbe in due qualsiasi oggetto che si avvicina. Si chiama effetto di marea. Immaginate che io cada di piedi verso la stella di neutroni. I miei piedi sentono una gravità molto più forte rispetto alla mia testa, perché i piedi sono più vicini alla stella di neutroni. Quindi è come se la stella di neutroni mi stirasse in entrambe le direzioni, strappandomi in due. E poi strapperebbe in due i pezzi rimanenti e così via fino a disintegrarmi a livello atomico. Torniamo alla crosta esterna. Si pensa che sia composta da atomi di ferro distribuiti in un cristallo e da elettroni che scorazzano tra gli atomi. La densità della crosta esterna è di 1000 kg per centimetro cubo. Scendiamo più in profondità nella nostra stella. Troviamo la crosta interna, con uno spessore di circa 2 km. Nella nostra anguria è rappresentata da questo primo strato di materiale rosso. In una vera stella di neutroni non c'è una divisione così netta tra crosta esterna e crosta interna. Infatti, più scendiamo in profondità, più la densità aumenta e i nuclei della crosta acquisiscono sempre più neutroni. Finché, a una densità di 500 milioni di km per centimetro cubo, nella divisione bianco-rosso nella nostra anguria, i nuclei contengono così tanti neutroni da non poterli più trattenere tutti. Si dice che i neutroni gocciolano fuori dai nuclei e formano un mare di neutroni sempre più denso man mano che scendiamo verso il centro della stella. Se quest'anguria avesse i semi, i semi rappresenterebbero i nuclei atomici immersi in un mare di neutroni liberi, rappresentati appunto in rosso nella nostra anguria. Questi neutroni sono detti superfluidi perché, per molti versi, si comportano proprio come i metalli superconduttori. Io feci proprio la mia tesi di dottorato in fisica sulle proprietà superfluide della crosta interna delle stelle di neutroni. Ma come? Vi chiederete. Non eri un fisico nucleare? Sì, ma siccome questa zona della stella è composta da nuclei atomici immersi in un mare di neutroni, per studiarla si applicano proprio teorie tecniche di fisica nucleare. Perché è come se si trattasse di un gigantesco nucleo atomico, grande quanto tutta la crosta interna. Ma scendiamo ancora più in profondità, dove troviamo il nucleo esterno. Il nucleo esterno viene subito dopo la crosta interna. Rimuovo quindi questa parte rossa centrale per lasciar posto al nucleo della stella di neutroni. Non butterò via niente di questa anguria, non vi preoccupate, me la mangerò dopo con molto piacere. Bene, quindi atmosfera, crosta esterna, parte bianca, crosta interna, parte rossa esterna con superfluido nucleare di neutroni e nucleo della stella di neutroni. Il 99% del materiale della stella di neutroni si trova in questi strati più profondi. Raggiunta la densità di 100 miliardi di chilogrammi per centimetro cubo, che è la densità che troviamo all'interno del nucleo atomico, i nuclei della crosta interna sono così compressi che si deformano, si avvicinano l'uno all'altro, fino a toccarsi, e si formano strutture bidimensionali e tridimensionali. Secondo i calcoli effettuati con i nostri modelli fisici, queste forme ricordano un po' diverse forme della pasta. Quindi questa zona della stella di neutroni è anche chiamata pasta nucleare. Rappresento questa fase di pasta nucleare aggiungendo della pasta proprio qui, nella parte esterna del nucleo delle stelle di neutroni. Mentre scendiamo possiamo quindi trovare strutture allungate, chiamate spaghetti nucleari, non vi sto mentendo, poi strutture piatte, dette lasagna e così via. Questa pasta nucleare è composta da protoni, neutroni ed elettroni. Più scendiamo verso il centro della stella di neutroni, più la densità aumenta e le strutture geometriche vengono schiacciate in un materiale più omogeneo. Per coerenza questo materiale è stato chiamato salsa nucleare. Il nucleo esterno ha uno spessore di circa 9 km in una stella di neutroni vera. Più in profondità troviamo il nucleo interno. Qui la densità può arrivare a dieci volte quella del nucleo atomico, ovvero fino a mille miliardi di chilogrammi per centimetro cubo. Non sappiamo esattamente di cosa sia fatto il nucleo interno. Potrebbe essere costituito per esempio da materiale esotico, come i peroni, ovvero particelle composte da quark che non si trovano nella materia ordinaria. Infatti i protoni e neutroni di cui siamo fatti anche noi contengono quark up e down. Ma vi sono anche altri quark. Hanno tutti nomi abbastanza bizzarri. Nel nucleo interno di una stella di neutroni vi potrebbero essere particelle composte da quark strange, cioè quark strani letteralmente, come gli peroni o i caoni. I modelli fisici non sono ancora in grado di determinare cosa vi sia in questa zona. E un esperimento chiaramente è molto difficile da eseguire. Rappresento questa zona centrale con questo foglio di carta. Per rappresentare la nostra ignoranza. Una stella di neutroni è un oggetto compatto, ovvero che accumula moltissima massa in pochissimo spazio. Per questo al centro, nel suo nucleo, si può creare questo materiale esotico. Questo fa sì che si creino anche altri fenomeni affascinanti. Primo fra tutti, quello del rallentamento del tempo. Infatti vicino a una stella di neutroni, nella zona circostante della stella di neutroni, il tempo scorre più piano rispetto al nostro, che la osserviamo da lontano. Lo stesso accade, per esempio, con i buchi neri. Se volete sapere di più su buchi neri, rallentamento del tempo, sulla gravità e sulla relatività di Einstein, vi consiglio di leggere il mio libro, Capire il tempo e lo spazio. È un libro per tutti, perché è scritto con un linguaggio semplice e contiene più di 60 trafigure e schemi disegnati da me, come questo, per esempio. Vi lascio il link al libro in descrizione. Ciao e a presto! Grazie! 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 Grazie!